Tartarughe Ninja numero 10 della IDW di Eastman, Waltz e Kuhn, una nuova missione per le tartarughe. Kawabanga e bentornati nella rubrica Tartarughe Ninja, facente parte della più ampia rubrica fumetti di questo canale YouTube. Se non lo sapete, io da qualche tempo ho iniziato a fare una sorta di retrospettiva dei numeri che sono usciti qualche anno fa di questa fantastica collana. Tartarughe Ninja della IDW, uscita nel 2011 negli Stati Uniti, nel 2013, edita da Panini qua in Italia, e che ha avuto una pubblicazione molto sfortunata. Ad oggi è un bimestrale che potete trovare solo in fumetteria e nelle librerie dedicate. Chiedetelo al vostro fumettista di fiducia, al vostro libraio di fiducia. Ma dal momento che i numeri arretrati sono davvero difficili da trovare, eccomi qua a farvi un riassunto per aggiornarvi su quello che trovereste attualmente se comprate la testata regolare. La settimana scorsa avevo detto una cosa sbagliata, che la storia di Casey Jones sembrava un po' incastonata a sé stante sulle sue origini, ma che non confluiva nella storia principale. Invece no, perché nel finale di quella storia Casey Jones veniva di nuovo picchiato da suo padre, ubriaco. In questa storia, che ci mostra l'altra prospettiva, ci mostra le tartarughe ninja che sono intente a divertirsi tra di loro, stanno giocando a Twister, facendosi le loro battute sagaci tra di loro, vengono interrotte da Casey Jones che irrompe nella loro attuale base, che è il negozio delle seconde occasioni dei genitori di April O'Neil, completamente pestato in base a quello che è successo nel numero scorso. Questo scatena ovviamente la rabbia di Raffaello, che innanzitutto è la tartaruga ninja più impetuosa, più irrascibile, ma poi è anche quella più legata a Casey Jones. Il maestro Splinter, che fino a pochi minuti prima stava meditando anche per riflettere su quello che è successo nel numero scorso, ovvero sulla scoperta che Orokusaki è ancora vivo, che comanda ancora il piede, e che lo ha rapito, e che vuole distruggere la sua famiglia, interrompe la sua meditazione per andare incontro, per andare dietro a Raffaello, che molto probabilmente sta per andare ad uccidere il padre di Casey Jones. Contemporaneamente vediamo altre due storie che si svolgono insieme alla storia principale, in un intreccio davvero interessante. La seconda storia ci mostra come Orokusaki sta allenando sua nipote, Orokukarai, che non ritiene degna di essere la sua seconda in comando, la sua Chunin, e vuole metterla alla prova facendola combattere con se stesso e anche con gli altri membri del clan del piede, ma non la ritiene degna, vuole un altro secondo in comando, e ci svelerà alla fine di questo episodio a chi si sta riferendo. La terza storia invece parla di Baxter Stockman, che nel secondo numero, in due numeri fa, era stato stordito dal generale Krang, ed è stato portato appunto dal generale Krang su Barno Island. Barno Island è una sorta di avamposto terrestre creato da Krang e dalla sua razza, perché sì, qua finalmente scopriamo a tutto e per tutto chi è Krang e cosa c'è dietro, e qua sboccia proprio una serie di riferimenti al cartone animato del 1987, scopriamo che Krang appunto è un... non è un alieno, ma è un essere extradimensionale, che è molto diverso a quanto ci tiene lui a spiegare, perché viene dalla dimensione X attraverso un portale che sono riusciti a creare. Il suo pianeta natale si chiama Utrominon, e lui è un Utrom della razza degli Utrom, esattamente come nel fumetto originale. Quindi Krang è il nome, Utrom è la razza, Utrominon è il pianeta. Ma, come nel cartone animato del 1987, è malvagio. Dopo la fallimentare collaborazione con Baxter Stockman per riuscire a creare un esercito di mutanti attraverso il siero psicotropo, che poi ha altro non è che un'evoluzione del mutageno che ha trasformato le tartarughe ninja in Splinter, non ritiene del tutto inutile la capacità di Baxter Stockman dopo che ha visto in azione i suoi Mauser, e così lo rapisce e lo ingaggia per costruire un'arma che riuscirà a portare il popolo di Utrom agli antichi albori. Quest'arma è il tecnodromo, che ricorda un po' la morte nera di Guerra Stellare, che chiaramente anche negli anni Ottanta citava esattamente qualcosa del genere. Il tecnodromo è in costruzione in questo contesto. Tornando alla storia principale, si divide anch'essa su due fronti, il fronte Splinter e Raffaello, e il fronte Casey Jones, April e il resto della famiglia. Splinter e Raffaello finalmente irrompono quasi insieme a casa di Arnold Jones, il padre di Casey Jones. Raffaello, dopo averlo pestato senza troppi problemi dal momento che era ubriaco il padre di Casey, gli punta un sai alla gola e sta quasi per pugnalarlo, ma viene fermato dal maestro Splinter, che, sorpresa, plot twist, prende il sai e lo punta lui stesso alla gola di Arnold Jones. Questo per dare un'importante lezione a Raffaello. Già un paio di numeri fa abbiamo parlato di come anche il maestro Splinter fosse incline alla rabbia in gioventù e di come abbia imparato col tempo e con l'amore della propria famiglia a gestirla. E in questo numero vediamo finalmente come lui può insegnare questo valore al figlio più irrascibile del gruppo, a Raffaello. Quindi viene proprio riproposto il discorso sulla rabbia fatto nel film del 1990, ma con un maestro Splinter davvero, davvero badass, davvero spacca culi. Un personaggio fantastico, scritto da Dio in questi numeri. Il maestro Splinter è il miglior personaggio di questi ultimi numeri. Il maestro Splinter ci tiene a insegnare a Raffaello come togliere la vita a quest'uomo sia inutile e non risolva i problemi che ha Casey Jones nella vita, anzi rischierebbe di peggiorare ulteriormente le cose. E insegna a Raffaello come la rabbia sia l'ultima soluzione, l'ultima alternativa quando non ci sono altre alternative. La rabbia, la violenza e il combattimento sia l'ultima alternativa per un ninja. Raffaello capisce questa importante lezione e Arnie Jones non manca di cagarsi addosso, dal momento che per tutto il tempo che Splinter insegna queste cose a Raffaello ha un sai puntato alla gola. La soluzione per Splinter in questo caso è quella di far prendere a Raffaello tutti gli effetti personali di Casey Jones e di portarli a casa con loro. Casey Jones si stabilirà insieme alle tartarughe ninja perché è parte della famiglia. Quando Splinter e Raffaello tornano, concludono il discorso che già Leonardo, Donatello e Michelangelo stavano facendo a Casey Jones insieme a April O'Neil, di come loro siano una famiglia, siano qualcuno, un'entità che può aiutare Casey Jones con i suoi problemi. Allo stesso tempo anche Casey Jones dà una lezione in un certo senso ai suoi nuovi amici sul fatto che loro sono molto fortunati perché a differenza di Casey Jones il loro padre darebbe la vita per loro e dovrebbero essere un pochino più riconoscenti. Quando Splinter e Raffaello tornano e continuano questo discorso molto familiare, Splinter, che continua a essere il personaggio molto accattivante di prima, afferma che è l'unica soluzione che ha trovato nella sua meditazione per far stare al sicuro la propria famiglia sia quella di appunto togliere di mezzo Shredder, di ricorrere all'ultima arma, ovvero la violenza, e quindi di distruggere Shredder. È chiaro l'intento di Splinter di uccidere Shredder una volta per tutte e questo fa un attimino perplime Leonardo, diciamo. Finale del numero si conclude con Shredder che decide che Karai non è appunto adatta a essere la sua seconda in comando, ma vuole il figlio di Amato Yoshi, vuole Leonardo. Bene ragazzi, io spero di avervi dato un po' di curiosità, o quantomeno di avervi riassunto bene questo numero per potervi farvi procedere con i miei prossimi video. Io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino a qui e come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video.